L'Ube Creo Store Bergamo a Curno. Promozione straordinaria. La cucina dei tuoi sogni a metà prezzo. Sì, hai capito bene, a metà prezzo. Vieni a trovarci dall'Ube Creo Store Bergamo a Curno e potrai scegliere su una vastissima esposizione la cucina dei tuoi sogni a metà prezzo. Ricordati che la promozione è valida solo dal 23 al 26 maggio. Ti aspettiamo dall'Ube Creo Store Bergamo a Curno. Grazie a tutti.